Il 24 giugno tutte le aree che sono edificabili attualmente nei piani regolatori vigenti e che sono soggette a piano di lottizzazione per poter essere sviluppate automaticamente decadono. In base alle previsioni della legge regionale 14 del 2017 è stato introdotto questo termine perentorio. Dunque attenzione non solo a Belluno ma anche in qualunque altro comune. Scadono le previsioni del piano urbanistico attuativo. Per rinnovarle e non perdere il diritto a edificare occorre chiedere in comune una conferma delle previsioni contenute nel piano regolatore vigente dalla fine degli anni 90 e poi pagare entro il 31 dicembre del corrente anno e di ogni anno successivo l'un percento del valore ai fini IMU delle aree in oggetto. E quindi il comune di Belluno ha predisposto uno specifico avviso pubblico in maniera da mettere sul chi va là e sull'attenzione tutti i proprietari di queste aree al fine di potergli consentire la possibilità di presentare una domanda di proroga dell'edificabilità su quell'area.